Perché l'arte è nella vostra vita? Perché? L'arte è nella vostra vita. Ma se si fa rispondere a una persona, dai, no, no, dammi, dai, è irrispondibile. Insomma, come se si fa rispondere a una cosa così? Inizio io. Vai. Sì. Allora, posso dire la storia del Politeama? Che io ho vissuto nello stesso ingresso del Teatro Politeama, quindi, voglio dire, per me era veramente una cosa... Mi sono un po', come dire, abituata a sentire quelle cose, a sentire quegli spettacoli, le voci dei cantanti lirici, e per me è stato una specie di battesimo, è vero, proprio così. È stato fondamentale vivere lì. Ti hanno fatto solo battesimo, poi ti hanno fatto comunione e cresimo. Poi dopo, comunione e cresimo a Santa Maria degli Angeli, una piazzetta, quella distrutta. Ma perché l'arte, e in particolare quella che faccio io, cioè il teatro, è bella, arricchisce, fa più bella la vita, diverte, ti fa passare i malumori, è una cura, è una cura per lo spirito, per la mente, è una cura per quello che ti appesantisce, ti può piagare, è per me un balsamo. Il teatro è quello che è pratico, e l'arte in generale, anche quando vedo un quadro, quando sento una musica, cambia tutto. e avere la possibilità di lavorare in un campo artistico, mi è sembrato il rimedio che più mi interessava, perché non ha controindicazioni, non ti fa bene da una parte e ti scassa dall'altra parte, come succede quando tu ricerchi un rimedio. Questo mi sembra un rimedio alla difficoltà della vita, alla pesantezza che a volte la vita ti mette addosso, e per me è veramente un'ancora. A me mi dice sempre una cosa, i miei quando erano piccoli, loro dicevano impara l'arte e metti l'appartamento, quindi subito mi è stata appartamento, prima mi è imparato, non faccio il lavoro, e mi è detto direttamente appartamento, però a proposito delle cose che diceva lei, una volta Cecchi ha detto una cosa molto bella, io ho scelto di fare il teatro perché la vita è troppo realistica, e quello mi piace assai, che cazzo dai, dobbiamo inventarci una vita astratta, una vita altra, una vita artificiale, dobbiamo inventarci un artificio rispetto a questa cazzo vita, che è così pesante e reale. E infatti è quello che dicevo prima, ma c'è chi ha sentito a me, che io una volta ho detto questa... eh ma io mi senti una volta che hai detto questa cosa... ho scelto il teatro perché la vita è troppo realistica, lui è più sintetizzata, ma è proprio acchiappata, capito? certo, un'altra... però io la tengo sempre da parte, però io la tengo sempre da parte. eh ma invece, invece è meno male che qualche volta non la tieni da parte, e la... io la tengo sempre da parte, e la metti... qualche volta lei passa sempre dal muro di fronte, ti ha saluto così, ma non ci incontriamo mai, perché io metto a paura, ti giuro, ma ti giuro, dico eh ciao, lei passa di là, io non sono d'accordo, perché quando... bella, non sono d'accordo, perché quando vedo il cinema che fai, o le cose che fai, non vi siete salutati e tenuti a distanza, vi siete presi, ma adesso lo saprà, e allora perché non passa a casa? ma perché sei tu che la metti da parte, poi ci sono dei momenti in cui... no, è inevitabile... è inevitabile... probabilmente passava un pullman, però c'è una giretta che l'ha in questo cazzo... non si ha la consapevolezza di... no, non posso passare... perché quando quella ti dice, abbiamo già più o caffè insieme, tu non resisti a te, questa formula, abbiamo già più o caffè, è proprio irresistibile, è irresistibile. Però perché quando ho detto, l'arte viene, passa, e se ne è passata? Perché se passano l'art... O pullman che va a fermi su? Se passano 50, se vieni, 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 in modo che la smettiamo con questa idea. Perché la prima cosa che ti chiedono, vieni, vieni, studi d'arte, ti insegnano che cosa è l'arte. Beh, e quello è il primo rifiuto, da lì cominciano i rifiuti. E vorrei invece sapere, nel vostro intimo, Napoli, che cos'è? È una carta sporca. No? Una fatica. E nessuno se ne importa. Una fatica. Una fatica, ma anche una... cioè, una fatica, ma un'attrazione continua, inevitabile, cioè, nel senso che comunque tu senti la... come dire, la forza, no? la forza, come dire, l'energia di questa città, proprio l'estero. Non lo so, dico cose scontate, come dire, dette e ridette, però sento una fatica del vivere una fatica in mare. Ma perché a Roma si fatica, è uguale. E allora? Infatti, dopo vent'anni, secondo me, bisogna spostarsi per prendere altre cose. No, non ce la faccio. Non ce la faccio, però... Lei è rimasta a Napoli, per esempio. Eh, infatti, il caso di chi scappa... È giù del venuto. Io ho fatto l'inversione. È giù del venuto. Io sono un emigrante, al contrario. Perché bisogna recuperare le cose. Me ne sono andata a vivere a Roma, che ero giovanissima, quindi sono stata tanti anni a Roma, e poi ho deciso di vivere a Napoli. Ma siccome io non sono di Napoli, sono della provincia di Torre Annunziata... Cazzo, hai detto niente. Per me Napoli è stata una scoperta. Torre. Perché non ho mai vissuto a Napoli. Vivendoci è stata una scoperta. È una giostra, Napoli. È come una giostra, tipo la ruota panoramica. Ecco, io l'immagino così, Napoli la identifico con queste immagini di una ruota panoramica. Tu ci stai sopra, vedi cose belle, perché la ruota panoramica si presume ti faccia vedere una roba panoramica. Senti, ti dico un cieco. Vedo. Perché la ruota panoramica, una volta stai in alto, una volta stai in un gabbia in mezzo. È così. E poi, dopo che hai visto una cosa bella, scendi e stai nell'immondizia pazzesca. La ruota panoramica, prima è stata che la senti. Ma la ruota per me è quella di Napoli, per me è una ruota panoramica. È una giostra, è una giostra insensolata, perché è una giostra. Però, in particolare, se devo scegliere una giostra che dica Napoli, è una ruota panoramica. Proprio per questo alto e basso di roba panoramica che vedi, poi scendi e poi ti giri con una poca capa. Io non ci sono messo l'unico a passare quelle panoramiche. Io comunque volevo dire che per esempio io riscoprirò Napoli attraverso mio figlio di dieci anni che fa Lucianino fa i laboratori teatrali a Roma in napoletano. Cioè, quelli stanno a Roma e studiano il teatro napoletano e studiano Pino Daniele e studiano Edoardo eccetera. Allora, mi chiedi a me di leggergli le cose in napoletano. Adesso parla questo napoletano stram Oh, uaglio! No? Allora, attraverso di lui forse io anche mi riavvicinerò a dei testi, delle cose per leggerli e li scoprirò. E io ho avuto più che altro un allontanamento necessario per poter pure elaborare delle cose. Quindi attraverso mio figlio... Ha avuto un buon codice con atto che se ne è giusto. Allora, diciamo questo che oggi siamo in una dimensione internazionale attraverso Napoli Teatro Festival. Sì. Però tanti anni fa non c'era questa cosa, questa possibilità. Quindi chi iniziava a fare questo lavoro voleva anche vedere altro rispetto a Edoardo che è la nostra storia. E invece tanta programmazione era molto limitata. Molto limitata. Invece negli anni Napoli è cresciuta. Poi dopo hanno capito che invece è tutto contenuto là. ma tu ti devi allontanare per poi ritornare. Non puoi rimanere solo là. Devi anche vedere altro rispetto. che fai? Cosa tutto in un guscio? Scusami. Tutto nella bottiglia di Morandi sta. Ah, nella bottiglia di Morandi sta. Certo. Che non c'è bisogno di spostarsi. Piene della Francesca e Andy Warhol tutti in una bottiglia di Morandi. Ma chi li non si è mostrato mai a Bologna a queste case che sono Morandi, no? Però la sua fantasia mi ha speso tutta casa. Ma sai che c'è che devo dire? Io questa cosa l'ho messa da parte perché l'ho messa da parte perché sta arte mi 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 annoia capito questa intenzione dell'arte ma non proprio eh ma lo faccio mio malgrado perché c'è una parte mia di me che mi che sì è capito com'è perché c'è una parte mia di me che non si sente soddisfatta se non si mette a pazzia a fare è una forma di fare è una forma di no? Ma ci divertiremo insieme voglia ma la cosa più divertente saranno le prove quello è perché tu vede uno spettacolo sanno tutto quanto gli spettatori stanno tutti capito con me quella è una cosa che io detesto detesto il teatro gli spettatori è una vecchia guarda questa è un vecchio problema degli spettatori è tutta una roba ma sta tutto quando insieme il teatro lo facciamo insieme è una cosa vivo se non ci scambiate per no? sì e siccome siete vivi per voi salita o noi scendiamo giù no? quello è fondamentale il fatto di stare là l'altra sezione sono andato a vedere uno spettacolo allora tutti gli attori no? allora gli attori e guardavano una cosa là come è bella quella guarda quella nave che ha passato io girarete no? vorrei che ci stanno non ci stiamo niente ero tutto a buio dice ma il sogno quella fantasima ma quella fantasima vuoi fare pure a me quelle che vedi tu o no? io ho gippato pure un biglietto cazzo però è l'immaginario esiste l'immaginario no? è così ma dai si stiamo una banda di loro che guardavano il culo del teatro il culo del teatro tutto buio è tutto buio non sono riusciti a fartelo vedere questo è il problema perché non sono riusciti a fartelo vedere perché non è vero l'immaginario ma è una forma dinamica ma quella è una forma dinamica a quello spettatore che tu hai trascinato dentro però se lo trascini bene lo vede anche lo spettatore no 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 perché è una forma di dinamismo non è solo il trasferimento onirico no il trasferimento onirico strunzato io voglio vedere quello che vedi tu allora tu lo vedi la già vedi pure perché se lo vede l'attore lo vede no io voglio proprio vedere se non lo vede voglio proprio vederlo e toccare se tu vuoi vedere veramente la nave allora stiamo facendo cinema non stiamo evocando la nave non lo so che stiamo facendo forse stiamo facendo la pittura la letteratura la scultura coesiste tutto è tutto qua io posso fare la pittura il cinema il teatro la ceramica posso fare anche l'oreficeria perché sta tutto qua contemporaneamente non esiste il cinema ti sei scordato e poi il teatro oppure il teatro e poi il cinema poi là c'è stata la pittura poi un coppia c'è stato in Salvatore sotto c'è stata no cazzo è tutto qua qua succede e allora da succedere tutto qua io voglio che sia tutto qua grazie a tutti